Prima vittoria stagionale per il Terracina che al Bartolani di Cisterna batte per 3-1 il Sassari Latte Dolce. Il Terracina parte subito forte e al terzo passa in vantaggio grazie ad una punizione di Martino che beffa il portiere Sardo Marano sul suo palo per il vantaggio dei Tigrotti. Grande la gioia dei tanti terracinesi che hanno seguito la loro squadra nonostante il campo neutro. Il raddoppio del Terracina arriva al ventesimo, bella triangolazione tra Riccio e Sadai, la sfera torna a quest'ultimo che entra in aria e dopo una serie di finte la piazza d'esterno sinistro sul palo lungo per il 2-0 terracinese. I Sardi però non si demoralizzano e dopo diverse occasioni accorciano le distanze grazie a Cone che scatta sul filo del fuorigioco e deposita alle spalle di Uva. Il primo tempo termina qui. Il 3-1 del Terracina arriva al sessantaduesimo. Scambio sulla destra tra Sadai e Tonni, quest'ultimo riesce ad entrare in aria e con un preciso rasoterra di sinistro beffa Marano sul primo palo fissando il risultato. Il latte dolce prova a scuotersi e va vicino al 3-2 con sorgente che in corsa colpisce di testa un cross dalla destra scheggiando la traversa. Sul finale ci prova ancora sorgente ma il tentativo di Tapin dopo una respinta corta di Uva finisce alto. La gara termina qui. Il Terracina vince la prima gara della sua stagione e sale a 5 punti mantenendo l'imbattibilità.